Oddio, poi dicono che siamo noi diseducativi. Credo che fosse l'oroscopo di Paolo Fax, credo. Con la U, scritto con la U. Fax, Paolo Fax. Ragazzi a Gingione, a Gingione, a Gingione. Io sono un DJ che parla perfettamente. E per quelli che mi danno gente giacchia al meglio. Perché sono uno veramente giusto. Mi sfido a sintonizzarvi su Gingin Radio. C'è un sacco di spazio, ragazzi. Mi ascoltano dalle 2 alle 4, mi ascoltano in 6. C'è mia mamma, Jessica Rizzo, mio padre, Clint Eastwood, mai sordo. Poi mio cugino Nando, mia cugina Bazzababa. Sì, sono in 7, c'è anche la mia doppia personalità. Grande, tosto, Andrea. Come stai, Andrea? Eh, non sto molto bene ultimamente, scusi. Come mai? Dopo te ne parlo, perché ho un dramma in attio. Che è successo, Andrea? Casini? Non sto bene, non sto bene. Orca miseria. Sai che colpa? Che c'hai, Andrea? È colpa del culo femmina, sicuramente. No, a parte il fatto che ho scoperto, perché sono andato, il pagliaccio so tutto, ma ha portato una... Chi è, scusa? Mi ha portato lo zingarone e mi ha fatto vedere che si chiama Ficano. Il Ficano? Il Ficano, sì, non è culo femmina, si chiama Ficano. C'è proprio il nome. Non lo sapevo. Adesso devo cambiare il tatuaggio. Sì, io è il Ficano. C'era anche tu il tribaletto sopra il Ficano? No, io avevo scritto buco del culo sopra per ricordarmi cos'era. Sì, anche io c'ho scritto Ficano per ricordarmi che dietro il Ficano... Ah, ho capito. Che figazzo! Devi che... Capito? Il secondo... Sì, sì, sì. Ma che tu, agli amici pagliacci... No, no, no. Ti devo presentare qualche pagliaccio? Io, no, no, mi dici sempre sopra. Sì. Stai sbavando buco. Sì, perché io sono saccevole. Aldo, Aldo! Aldo è uno tosto, ragazzi! Aldo è uno veramente jock and joel! C'ho questo tollo di voce così, rocker, cattivo, aggressivo, ragazzi. Satanista! Stacca le teste, i polli, se le mangia, vivi, poi li ricagga e li rimonta insieme e ritorna a vivere. Trova incredibile, ragazzi, gli alieni. Quelli finti, eh, di gomma! Quelli finti di gomma! La gente, gli alieni, ragazzi, non ci credono. Aldo è veramente una tostagine unica. Aldo, cosa hai fessi, ragazzi? Si è permette degli ginjayi? Dedicata a certo Mazzoli, che si chiama American Idiot. Proprio un idiota all'americana. Un coglione, Francesco, l'unico che lavora. Anche Memorial Day! Gay, gay, gay! E' l'olando, dici qualcosa di Gioca e Gioca? Baghezza! Gianluca Grignani mangia sempre il tic-tac. Cioè, il tic-tac è un po' meno. Wow! Gianni Tossi! Da Gigi Radio e i Gigi con Mel Griglion.